Una tre giorni dedicata a Raffaella Giordano, a cominciare da domenica, si parte al Dialma Ruggero. Sì, è un appuntamento al quale teniamo molto perché Raffaella Giordano è una delle fondatrici della prima e più importante compagnia di teatro danza in Italia nell'84, Sosta Palmizzi, di cui fa ancora parte, e per noi è un orgoglio ospitarla, anche perché poi svolgerà domenica, come dicevi, lo spettacolo dal titolo Celeste, a punti per natura, dopo sei anni che non curava una sola, una coreografia sua. Poi lunedì e martedì inizierà un workshop per attori e danzatori, abbiamo numerose presenze anche da fuori città, e lunedì sera ci sarà la presentazione del film di Leonardo Di Costanzo, l'intrusa, che è stato presentato a Cannes l'anno scorso, che ha ricevuto numerosissimi attestati, riconoscimenti. L'intrusa che vede protagonista come attrice Raffaella Giordano, quindi ci sembra un evento speciale di tre giorni, particolarmente significativo per la città e per i cittadini. Ecco, tra l'altro sono anche in programma delle sorti di agevolazioni per partecipare sia allo spettacolo che vedere il film. Sì, diciamo che i partecipanti al workshop avranno la riduzione naturalmente sia allo spettacolo sia alla proiezione del film, ma anche tutto il pubblico di fuori luogo che presenterà il biglietto dello spettacolo celeste di domenica sera avrà la riduzione sul costo del biglietto per vedere l'intrusa al cinema nuovo.